Informare i cittadini su cosa cambia e perché nella gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, ma anche su cosa devono fare i responsabili degli impianti, sulla necessità di affidarsi a tecnici specializzati per installazione e manutenzione e cosa farà il Comune per informare, facilitare e controllare. Una vera e propria campagna di comunicazione lanciata dall'assessore all'ambiente Raffaele De Giudice che si inquadra nelle azioni del Comune volte a migliorare la sicurezza e la qualità dell'ambiente urbano in contrasto con i cambiamenti climatici. fare in modo che la qualità dell'area del Comune di Napoli sia innanzitutto area bene comune. Che si intende? Si intende che c'è una duplice azione, la nostra mettere in piedi una serie di interventi che devono essere fatti, l'ordinanza sul traffico per quanto riguarda la limitazione di alcuni autoveicoli, quella del porto di Napoli che impedisce alle navi di utilizzare quando attraccano all'ingresso del porto un carburante ad alto contenuto di Zolfo e l'altra è quella a carico dei cittadini per quanto riguarda i controlli e l'efficientamento dei propri impianti di riscaldamento e raffrescamento. Questo è molto importante, abbiamo realizzato questa campagna informativa che è il primo passo fondamentale perché è informativa e formativa. L'obiettivo finale è dunque il miglioramento della qualità dell'aria informando tutti i cittadini che le misure indirizzate al benessere ambientale e alla sostenibilità possono essere l'occasione anche per porre l'attenzione all'efficienza energetica e al risparmio economico.